Buongiorno a tutti, sono Alessandro Bertola e qua davanti a voi potete vedere l'Xperia Z2 Tablet, il successore del primo tablet della serie Z di Sony che però cambia a livello sostanziale, troviamo infatti sempre un display da 10.1 pollici 1920x1200 però cambia a livello di materiali, materiali che non sono più costituiti principalmente dal vetro ma troviamo delle plastiche, plastiche di buona fattura, al tatto sono molto molto comode però rimane quella spigolosità che non manca mai nei prodotti di Sony, una spigolosità che alcuni apprezzano altri no, troviamo inoltre la nuova interfaccia di Sony che abbiamo già apprezzato con l'Xperia Z2, interfaccia che presenta un po' più di animazioni e soprattutto qualche scorciatoia aggiuntiva che non fa mai male, fotocamera posteriore da 8 megapixel, manca purtroppo il flash led avrebbe fatto comodo per quelli che comunque amano fare le foto anche con il tablet, scusate, troviamo anche una fotocamera anteriore da 2 megapixel di buona qualità mentre i video vengono registrati a 720p. A livello di dimensioni è comunque un device piuttosto importante visto che la cornice come potete vedere è abbastanza pronunciata, infatti siamo sia a livello di peso, vi mostro nello specifico sia a livello di peso che a livello di design siamo sui 266 mm per 6.4 mm di spessore per 172 mm di larghezza, un device comunque importante, è bello pesante, 440 grammi circa, quindi assolutamente da tenere in considerazione questo aspetto. Troviamo lo slot per la micro SD, troviamo lo slot proprietario per attaccarlo ad hoc come questa e inoltre troviamo anche due speaker frontali stereo molto ben nascosti, questi qua, che suonano piuttosto bene. È interessante questo prodotto, rimane comunque la spigolosità del tablet e il suo peso, per il resto un device estremamente elegante.